E' programmato per domani, mercoledì 13 marzo, l'incontro fra l'assessore regionale Baccelli, gestori RFI e Trenitalia, i sindaci del Valdarno in provincia di Arezzo e Firenze, ed il comitato pendolare della Valdarno. Sul tavolo la questione dei ritardi dei treni e dei disagi purtroppo quotidiani sulla tratta Arezzo-Firenze. Alla vigila del vertice i consiglieri regionale PD Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis intervengono per sollecitare soluzioni. Molti di noi consiglieri, dichiarano i due PD, prendono regolarmente il treno per arrivare a Firenze e conoscono bene le problematiche delle diverse linee perché al grande impegno profuso dalla regione nell'attuazione del contratto di servizio in essere, non corrisponde da parte dei gestori Trenitalia ed RFI un livello adeguato di servizio con particolare riguardo ad alcune linee ferroviarie. Non chiediamo la luna, scrivono Ceccarelli e De Robertis, ma almeno di tornare ad una affidabilità del servizio paragonabile a quella che era stata raggiunta prima del Covid. La linea Firenze-Roma presenta una situazione insostenibile, qui l'affolamento provocato dalla costante aumento del numero di treni ad alta velocità che si è registrato nell'ultimo decennio ha finito con l'abbassare l'affidabilità a livelli inaccettabili nelle fasce dei pendolari. La regola dovrebbe essere quella di privilegiare i treni regionali o quantomeno di non penalizzarli come eravamo riusciti ad ottenere nel periodo pre-Covid, invece spesso nella tratta Rezzo-Firenze. I ritardi sono molto elevati, creano forti disagi alle centinaia di persone che utilizzano questo mezzo per lavoro e studio. Serve un grande sforzo da parte dei gestori e del governo e il parere di De Robertis e Ceccarelli. Abbiamo bisogno subito di un salto di qualità nella gestione degli incroci tra treni regionali e treni ad alta velocità ed in tempi rapidi di progetti ed investimenti e di interventi infrastrutturali importanti per andare verso il raddoppio dell'attuale infrastruttura nella tratto tra Figline-Valdarno e Firenze.